Secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie Per un pelo? Non ci provo ragazzi a mettervi un po' Perché è un mini power bank, quindi se si stopperà vi chiedo già scusa 13.07 C'è l'ape, avevi l'ape, no non è l'ape è quello puzzolente Lascialo lì perché se tu guarda Non capisco cos'è È stato fighissimo Quindi adesso abbiamo assolutamente voglia di tornare A fare un bel po' di casino insieme a voi Spero tra l'altro Spero tra l'altro Spero che tra di voi ci sarà qualcuno che verrà a GameX Market Buongiorno intanto, buongiorno Pollo E insomma ragazzi Volevo anche salutare subito Tutti i ragazzi che sono già qui a guardare la live Buongiorno Silli Buongiorno i po' Shady Pollo 07 Ho spaccato anche la batteria di su Valtaccia Non c'è Un'altra 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 incontrare e chiudere non l'ho mai fatto complimenti ci vediamo dopo ragazzi ciao attenzione hanno bustini interessanti qua mamma mia che kill qui abbiamo rotto tutto qui abbiamo rotto tutto raga ah questo è figo raga qua devi trovarlo devi trovare questo questo qua è un cannone questo è il controller revolution x questo è un gran controller faccio vederlo questo è stupendo nuovo guardate che cannone eh questo è bello raga questo qua è non lo so se eh no è xbox questo cosa costa sto coso è bellissimo raga un prodotto top c'ero è però 3 su 3 brava michela c'è oh nel bunker a destra nel bunker a destra minchia minchia raga minchia rilli di jam oh banana si e torna nella live di xiu chiusi ring sempre porta notizie a volte brutte o jambo banana sai jambo jambo banana ormai andiamo salutiamo tutti jambo banana che è uno dei miei manager non è vero non è vero dai non puoi jack io cioè tocco basito cioè nel senso cosa posso fare cosa posso fare ma quando si continua a tancare a tancare quei flopper che scena di merda ma io spero che tua madre ti caga nella minestra e tu ti mangi lo stronzo figlio di puttana figlio di puttana che tu possa essere inculato pezzo di merda è invasato mamma mia oh figlio di puttana oh ma che problemi del cazzo c'hai dio cristo hai pestato la testa contro quella merda di scrivania del cazzo che hai comunque abbiamo fatto due punti più di settimana scorsa easy dove sono le ragazze abbiamo perso le ragazze sempre difficile raga sempre difficile non vi leggo raga e non ho la arrivo è ok ok edza amo purtroppo siamo ancora zero kill 30 in brutta storia raga brutta storia brutta storia mamma mia ragazzi questo è il mio pump oh cazzo ho oh Ah, yeah. And that's it, I swear. It's a crackle, let's kill. il monitor ha un sacco di funzioni interne che sono ultra utili e il principale è il glare free che cos'è il glare free ragazzi? è quella meccanica, quella funzione che permette di non avere problemi a vedere lo schermo anche in condizioni brutte in questo caso c'è una torcia, se io gliela punto la torcia non viene riflessa quindi lo schermo non ha assolutamente nessuna variazione questo può essere utile nel caso in cui magari abbiate lo schermo in una camera dove a un certo punto si alza il sole e vi entra il sole in camera qua non avete problemi con il sistema glare free abbiamo chiaramente anche un altro sistema super importante che si chiama Samsung Safeguard praticamente è una funzione interna che viene sviluppata e utilizzata per evitare il per aver portato altri cinque mozze sulla mia bagnarola mi permetta, mi permetta di offrirle questo bellissimo completo all'ultimo grido l'ho recuperato dalla baia di Smrazzlado ed è fatto con un tessuto proveniente dall'Oriente imbevuto in un bellissimo colore rosso carminio rosso carminio 3 2 1 let's go let's go pigiot era ovvio che non fosse un Olo ma ne esistono solamente tre bellissimo il pigiot merda fatemolo mettere subito in protezione i vi bellsprout bellsprout le adagio molto piano guardate nella sua semplicità ragazzi guardate nella sua semplicità è incredibile è incredibile grazie alle grazie per la grazie a tutti